satanetto chi era satanetto? lui qualche G bravo bravo ma tanto dell'esercito c'è la mia persona da qui a Roma che lo sa bravo impedirebbe un prego ci regaliamo? no mi dai un bacino non e io fecho ancora ma posta 1, 2, 3, 4 mi dai un bacino qui non ma non ma ma non non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.